buona giornata amici di fano tv bentrovati alla rassegna stampa di oggi oggi è venerdì 10 marzo 2023 e oggi una rassegna stampa particolare perché abbiamo un ospite in studio lo salutiamo subito si tratta di paolo regginelli presidente dell'aset buongiorno paolo ben trovato grazie per essere venuto qui per commentare le notizie dei giornali questa mattina noi comunque procediamo con l'almanacco del giorno per iniziare bene la giornata e vediamo che oggi ecco qui il santo si festeggia san macario di gerusalemme un vescovo fu uno dei protagonisti del concilio di nicea contro l'arianesimo che allora era una delle eresie che imperava fu lui a rimuovere pensate sotto il grande cumulo di macerie con cui era rovinato il tempio di venere a gerusalemme fu lui a rimuovere appunto questo cumulo per ritrovare il santo sepolcro ed allora poi anche grazie con la madre di costantino che aveva dato questo incarico a macario furono ritrovati appunto tutti i reperti il calvario la croce e via dicendo quello che si venera ancora oggi vediamo anche le previsioni del tempo eccole qua sul corriere adriatico abbiamo la mappa della regione vediamo delle nuvole tenere il tempo si mantiene instabile specie nelle medie basse marche con rovesci anche di moderata e forte intensità tra la notte e la mattina il clima è ventoso ci sarà un vento piuttosto forte nella giornata di oggi sulle coste spirerà da una direzione di ovest sud ovest così come nell'entroterra e le temperature sono piuttosto alte insomma la primavera come ho detto già nei giorni scorsi si comincia ad avvertire le minime 12 gradi le massime 17 gradi ci ho detto apriamo i giornali paolo e vediamo subito l'apertura del corriere adriatico si parla del centro civico di gimarra finanziati i lavori del primo piano il centro civico era stato realizzato già nel piano terra ora l'amministrazione comunale realizza anche il secondo piano chi non lo sapesse paolo reginelli adesso è presidente di aset ma tempo fa aveva fatto il difensore civico della città di fano aveva preso le consegne da un illustre suo predecessore che era padalino ebbene è un'esperienza interessante quella paolo a suo tempo quella di difensore civico molto interessante perché era un ufficio estremamente aperto a tutti quindi ti rendevi conto in pratica avevi un po il pulso della situazione capivi bene qual era lo stato della città quindi le persone bisogni e quant'altro quindi è stato molto importante anche dal punto di vista umano perché instauravi dei rapporti estremamente interessanti con persone che poi di fatto dovevi orientare quindi far capire quale poteva essere l'area di competenza però è stata una bella esperienza ritengo che queste cose qui manchino un po perché ormai si va verso una società dove c'è un po chi può tutto e non ha bisogno di consulenti e chi invece ancora ha bisogno di tante cose nell'affrontare la quotidianità la burocrazia che è sempre più invasiva insomma e poi la difesa dei più deboli per un avvocato insomma è la massima è la massima aspirazione risolvere anche tanti problemi poi contingenti quelli magari di qualche sopruso di qualche problema che aveva e quindi anche un centro civico come ha evidenziato ieri il sindaco di Fano Massimo Seri costituisce anche un assegno di socialità per quanto riguarda tante attività che si svolgono in un quartiere è un centro di coesione per quelli si può fare del teatro si possono fare delle assemblee si possono discutere tante cose si possono svolgere tante tante iniziative corsi di quello corsi di quest'altro insomma è veramente una cosa importante il finanziamento che si fa a Gimarra è un finanziamento importante adesso arriva anche il PNRR quindi con 450 mila euro ministeriali 150 mila euro dell'amministrazione comunale questo secondo piano verrà la luce ci vorrà un po di tempo perché poi le scadenze del PNRR sono veramente tassative comunque entro il 2024 qua già qualcosa comincerà a vedersi vediamo invece l'apertura del resto del Carlino e si parla di aumento delle bollette è un problema questo che evidenzia l'ex segretario provinciale della Feder Consumatori Sergio Schiaroli bollette alle stelle così eviterete salassi peggiori ebbene Sergio Schiaroli evidenzia i suoi consigli Paolo Reginelli che consigli dà per cercare di mantenere i consumi in un limite accettabile ma io penso che i cittadini abbiamo già capito insomma quali sono le cose migliori da fare per mantenere bassi consumi perché ultimamente parliamo da da luglio fino a dicembre ne abbiamo visti insomma di tutti i colori dal punto di vista dei dei prezzi del gas dell'energia elettrica e quant'altro quindi ognuno a casa sua avrà preso le debite misure per quanto riguarda la parte che interessa ASET noi abbiamo diminuito le tariffe dell'acqua e non aumentato in nessun modo le tariffe del tutto quello che ha a che fare con la taria quant'altro anzi c'è stata una lieve diminuzione quindi l'impatto su per giù è lo stesso poi parliamo di un impatto come quello dell'acqua che è risibile tra tutte le altre utenze sono comunque soldi che bisogna pagare però comunque ancora sono dei costi estremamente accessibili lo vediamo tutti all'interno delle nostre case la bolletta dell'acqua ad oggi è quella che da meno pensieri quando arriva danno più pensieri la bolletta del gas la bolletta dell'energia elettrica insomma questo è così per adesso e poi c'è in programma anche un progetto importante quello di una trasformazione radicale delle bollette per quanto riguarda i rifiuti quello che si sta sperimentando a San Costanzo potrebbe poi riversarsi anche nella nostra città che punto è questo sperimento e che risultati sta dando ma praticamente a San Costanzo ormai è ben delineato e quindi c'è si sta monitorando il comportamento un comportamento esemplare da parte dei cittadini quindi se ne trarranno un po' le le conclusioni io penso non prima di luglio almeno far passare sei mesi dalla sperimentazione tutto il resto sul resto sulle ricadute che ci potrebbero essere negli altri comuni noi aspettiamo gli input dei comuni stessi perché sono loro che ci chiedono questo genere di servizi e poi noi lì facciamo il modello a seconda delle della richiesta e in questo caso è stata una richiesta espressa da parte di di San Costanzo che in qualche modo c'è anche diciamo così inorgoglito perché è una strada che vorranno percorrere da tempo insomma ecco sì si parla di attuare la tariffa puntuale detto in parole povere è una tariffa che si quantifica rispetto alla quantità dei rifiuti che una famiglia produce quindi si invita anche un po' a risparmiare i rifiuti quindi gli imballaggi e via dicendo c'è un altro articolo che ti rimballo l'Aset questa mattina sui giornali e lo vediamo qui a fondo pagina del resto del Carlino nuove condotte idriche a bellocchi Aset estende la rete bene l'acquedotto ancora ha bisogno di estensioni ci sono casi che non hanno ancora l'acqua potabile allora nuclei veri e propri questo è l'ultimo cioè qui parliamo di un tratto nella zona industriale in cui ci sono 50 allacci di cui la metà aziende e la metà privati che rappresentano un anello che è stato in qualche modo lasciato indietro perché c'era una condotta portata avanti dalle attività industriali e non si è tenuto conto dell'altra parte alla fine della praticamente di via papiria in questo modo concludiamo tutto poi ci sono altre ci sono delle case sparse che ancora non hanno l'acqua però nuclei veri e propri non ne abbiamo più quindi dopo fenile dopo questa parte qui che è molto importante che riguarda l'ultima parte di via papiria poi abbiamo via da nicola e altre due vie via meda inizieremo i lavori tra un paio di settimane e possono già fare le domande per gli allacci per chi è sempre meglio farlo in tempo e quant'altro ci sono dei moduli scaricabili per noi è un investimento di circa mezzo milione quindi 500 mila euro però lo facciamo volentieri perché intanto dare un'acqua purificata potabile quant'altro è estremamente importante anche perché chi faceva riferimento in quei luoghi all'acqua era acqua di falda e ultimamente con gli ultimi avvenimenti particolarmente siccitosi durante l'estate si pescava un'acqua che era rossasta insomma c'era delle qualità che non erano perfettamente a parte che non si potevano bere però anche dal punto di vista estetico creavano dei problemi e quindi adesso con l'allaccio dell'acquedotto questi problemi sono completamente risolti quindi anche le aziende che sono delle aziende molto importanti lì possono benissimo fare affidamento su questo nuovo servizio Comunque è un investimento considerevole di mezzo milione di euro per oltre 3,6 km di nuove condotte idriche l'invito appunto a 25 famiglie e 26 titolari di aziende di Bellocchio Abbiamo qua invece un'iniziativa di arredo che sta per assumere l'amministrazione comunale per quanto riguarda l'area Exagip un'area che da tempo è lasciata in abbandono, ha bisogno di una ristrutturazione ma sembra che il progetto che intenda realizzare l'amministrazione comunale non vada bene all'opposizione ovviamente l'opposizione fa il suo mestiere La Giunta fermi il progetto Exagip e venga ripristinato il giardino originale E' l'appello dei consiglieri di Fratelli d'Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli che rivolgono all'esecutivo Il piano, approvato all'inizio di febbraio, sarà presentato pubblicamente la prossima settimana Siamo quindi alle battute finali Qui Reginelli c'era un dibattito Fare un giardino, fare un parcheggio L'amministrazione comunale il parcheggio l'ha scartato Ritieni che la dotazione di parcheggi, sa, via le Gramsci lì vicino è tutto un parcheggio a pagamento lo gestisce proprio l'ASET ma abbiamo i parcheggi liberi, qualcuno a disco orario anche all'interno della caserma Paolini e non molto lontano abbiamo il foro Boario dove è nato un provvedimento molto importante di ristrutturazione Ritieni che la dotazione dei parcheggi proprio al limite della cinta muraria sia sufficiente oppure ancora la gente parcheggia dove vuole? Guarda, parlavo proprio ieri con una signora che diceva che praticamente durante in via Gramsci i parcheggi si trovano anche in orari non sospettabili diciamo così, quindi anche orari di punte e quant'altro probabilmente un parcheggio lì in mezzo a due vie non sarebbe stato neanche estremamente usufruibile mentre da quello che ho capito invece come i parcheggi vorrebbero valorizzare di più tutto il discorso che c'è all'interno della caserma quindi quello come un polo vero e proprio dove praticamente è la parte anche più congeniale, più vicina al centro da dove praticamente è un po' come si vedono nelle grandi città che tu arrivi in prossimità del centro, il parcheggio è un parcheggio sotterraneo e poi ti trovi due passi dalla via principale per lo shopping e via discorrendo quindi penso che forse una destinazione migliore per i parcheggi potrebbe essere proprio l'area sedime della caserma Parcheggi a pagamento li mette anche Marotta lo vediamo dunque, dunque vediamo un po' se riesco a ritrovare l'articolo Marotta, eccolo qua Marotta, il Comune investe 440 mila euro per riqualificare il lungomare sud e nel bilancio di previsione è stata inserita proprio questa cifra e ci sarà veramente un cambio di marcia per quanto riguarda il lungomare tutte le località balneari hanno un po' questo metro di giudizio insomma, parcheggiare d'estate perché poi sul lungomare di Fano si parcheggia a pagamento solo d'estate quindi abbiamo un tempo limitato però insomma è una spesa in più per i nostri turisti com'è il bilancio di questa iniziativa? è andato bene? ci sono state proteste? come è andata? allora, le proteste ci sono all'inizio e poi sono delle proteste insomma più di facciata che concrete perché io mi ricordo il primo anno che è stato inserito questo benedetto parcheggia a pagamento poi alla fine chi ha fatto richiesta di eventuali esenzioni o di un abbonamento a parte sono state 14-15 persone se non sbaglio quindi non c'era una reale necessità è l'unico modo per avere la certezza di poter parcheggiare altrimenti abbiamo dei fenomeni dove c'è delle macchine che stanno di non si sa bene di chi siano o di chi non siano però comunque i posti sono limitati e di conseguenza non c'è il senso della rotazione ci è capitato anche un fenomeno che qualche ristoratore ci ha chiesto spessamente di metterli a pagamento davanti ai propri locali perché per il cliente che vuole andare al ristorante la cosa migliore è arrivare lì parcheggiare piuttosto che stare mezz'ora, venti minuti e girare avanti e dietro per trovare il parcheggio quindi come tutte le cose dopo un primo approccio a parte che è un primo approccio per modo di dire perché poi noi andiamo a Riccione, a Rimini parcheggiamo e paghiamo fino a mezzanotte con delle cifre che qui ci sogniamo perché ci sono delle tariffe che quasi raddoppiano però lì va tutto bene e qui qualche problema ci potrebbe essere come sempre non è altro che la continuazione del litorale quindi l'esempio di Marotta è quello che avevamo detto noi da sempre insomma che ormai si regolano solo così i parcheggi e a proposito dei ristoratori vediamo qui un articolo sul Corriere Adriatico questa mattina si tratta dei ristoratori di Viale Dante e Liglieri senza parcheggi chiuderemo gli esercenti sul piede di guerra la replica ai ciclisti in Viale Liglieri la pista ciclabile chiesta tra gli stalli e le case insomma qui si dice non mettiamo la pista ciclabile al posto dei parcheggi ma mettiamo la pista ciclabile i parcheggi e la carreggiata come è stato fatto in altre località e certo è che se io per andare a prendere un caffè devo mettere la macchina a 500 metri di distanza vado nel bar più vicino non vado più nelle bar dove mi servivo abitualmente e qui ovviamente gli esercenti ne risentono proprio come il giro d'affari in via a Liglieri è successo che il traffico è cambiato in questi ultimi tempi in maniera considerevole il traffico industriale verso il porto è aumentato e quindi la sicurezza è diminuita la pista ciclabile è stata richiesta a gran voce come conciliare Reginelli le esigenze dei residenti che vogliono sicurezza con le esigenze degli esercenti dei commercianti che vogliono lavorare è la sfida dei buoni amministratori perché non c'è una formula magica che possa in qualche modo contemperare le esigenze bisogna colloquiarci bisogna in qualche modo capire qual è la destinazione di una determinata area e poi da lì partire però penso che noi abbiamo questa situazione di città ormai già precostruite già collassate da questo punto di vista che non ti permette di agevolare qualcuno piuttosto che qualcun altro ma di penalizzare un po' tutti perché poi non si può dare una destinazione unica a dei tratti di strade in cui ci sono attività commerciali ricettive abitazioni private e tutto quindi le esigenze sono completamente diverse quindi qualcuno scontento rimane di sicuro secondo me sì e poi i disagi si avvertono sempre più nel periodo del cambiamento poi piano piano la questione si assesta e magari chi vuole prendere un caffè invece di prendere la macchina prendere la bicicletta e quindi parcheggia dove vuole insomma questo è un po' è quello che poi ci si adegua con il passare del tempo passiamo ora ad un altro argomento quello delle asfaltature ripartono a Fano le asfaltature ecco il piano dei lavori ebbene si avverte l'aria di primavera quindi le condizioni atmosferiche sono ideali per riprendere i lavori degli asfalti che hanno bisogno di una temperatura un po' più elevata rispetto ai regori invernali e quindi si ricomincia un intervento è già in corso con la sostituzione dei cordoli nel controviale di Viale Cairoli e poi è terminata l'asfaltatura di Via delle Brecce lo vediamo qui in questa fotografia e da mercoledì scorso ad oggi sono in atto i lavori di manutenzione stradale nel tratto di Via Fanella che va dall'incrocio con Via Davide Squaccia all'intersezione con Via Martiri di Belfiore poi segue tutto un cronoprogramma per quanto riguarda le altre vie da asfaltare Reginelli l'asfaltatura la copertura delle buche è la cosa più desiderata da tutti i fanesi magari possono anche far a meno del waterfront parlo, dico una bestialità del waterfront oppure dei più grandi i progetti che fa l'amministrazione comunale ma la buca davanti a casa non la vogliono e qui l'ASET quando fa la manutenzione delle reti i sottoservizi insomma qualche problema lo crea ma è normale perché intanto non penso che sia una questione relativa solo a Fano ma a tutti i cittadini del mondo che non vogliono vedere le buche questo è normale noi il problema lo creiamo perché la prima asfaltatura va fatta subito quindi va riposizionato il terreno il terreno naturalmente cede poi non gli devi spiegare che si torni tra sei mesi tra un anno perché altrimenti sarebbe completamente inutile quindi chi passa sopra non sa la storia di quello che c'è sotto e di quello che c'è in programma quindi molte volte si creano diciamo così degli equivoci proprio non sapendo la quotidianità dei lavori e le prospettive di intervento sullo stesso terreno perché altrimenti gli interventi si fanno per far ritornare allo stesso piano la strada prima di qualsiasi tipo di manutenzione però non è non è estremamente semplice perché le caratteristiche delle strade delle terre di riporto hanno dei dimensionamenti diversi quindi è difficile certo certo immagino ed ora sogniamo insieme bene sogniamo insieme perché quello che si sta trovando in via Vitruvio è veramente è una scoperta che ci fa sognare vediamo qui gli articoli che pubblicano i giornali oggi perché ieri è venuto a visitare gli scavi la funzionaria della sovrintendenza e quindi insomma si è resa conto anche lei dell'importanza di questi ritrovamenti dei locali con marmi pregiatissimi che vengono dalla Turchia che vengono dalla Grecia sono stati utilizzati non solo per fare la pavimentazione di questi locali ma sono stati utilizzati anche per ricoprire le pareti quindi locali veramente di grande di grande pregio che sono posti tra gli scavi che sono sotto Sant'Agostino quindi un tempio di grandi dimensioni il foro il teatro quindi una zona veramente centrale dell'antica Fanno un fortuna ebbene il titolo del Corriere Adriatico è scavoi i reperti potrebbero essere quelli della Basilica ovviamente ci vuole una conferma che al momento non c'è e vediamo anche come il resto del Carlino intitola l'articolo se quella è la Basilica di Vitruvio il Comune acquisisca l'area già qui c'è un passo avanti però bisogna veramente determinare se quella è la Basilica di Vitruvio per farlo occorre stendere gli scavi cosa che la sovrintendenza ha deciso di fare in tutta l'area scoperta e veramente ci lascia un po' con un po' di ansia valorizzare Fanno Romana Paolo è un dei provvedimenti che si impongono qui ci vuole sensibilità non si può restare con un teatro romano così in queste condizioni scoperto nel 2001 e ancora oggi lasciato così insomma non dico l'abbandono ma quasi non lo so noi abbiamo mappato in parte tutto il centro storico proprio anche per questo perché quando vai a fare i lavori poi ti ritrovi delle piacevoli sorprese che però comunque danno interrompere i lavori e quant'altro mi ricordo l'ultimo rinvenimento che abbiamo fatto di un tratto di strada romana nella continuazione di Viarco d'Augusto praticamente dopo il palazzo Martinozzi e anche lì è stato estremamente interessante capire tutto quello che c'è sotto perché comunque indipendentemente se è il teatro o non è il teatro però io penso che è la basilica o non è la basilica un edificio di quel tenore lì è comunque un edificio estremamente importante da evidenziare da rivalutare è certo che qui sotto di noi abbiamo la storia di 2000 anni forse anche 3000 perché comunque ci potevano essere dei rapporti anche con i greci prima era un porto di conseguenza si navigava a vista e quindi c'erano questi insediamenti lungo le coste quindi sarebbe il non plus ultra avere la mappa di tutto quello che c'è al di sotto del calpestio il problema vero è anche qui la quotidianità quella dei mercati quella delle persone che ci abitano sopra quella degli edifici quella dei locali commerciali quindi far convivere tutte queste cose è estremamente diciamo così difficile però è anche vero che la tecnologia ci viene molto incontro in questo genere di situazioni con ricostruzioni con modalità anche espositive che sono diverse e meno impattanti di quelle che potevano essere un po' di tempo fa c'è anche una dichiarazione del presidente del centro studi vitruviani Dino Zachilli oggi sul resto del Carlino dice non ho visto ma se quello che sta emergendo è riferibile alla basilica di Vitruvio sarebbe un fatto mondiale e la città ha il dovere di acquisire l'area e anche l'immobile al patrimonio universale dialogando e collaborando con tutti proprietà e ministero della cultura in primis questo appunto l'invito di Dino Zachilli insomma dovrebbe essere acquisito perché poi avere veramente la basilica vuol dire avere una rinomanza a livello proprio internazionale non dico nazionale ma a livello europeo e anche oltre oltre vediamo anche una notizia di cronaca che viene pubblicata con grande evidenza dai giornali questa mattina vediamo il resto del Carlino colpo nella villetta di Mirko Carloni rubati soldi orologi e due pistole che paura soprattutto mia figlia ha dichiarato l'onorevole il deputato era a Roma la moglie e la bambina fuori a cena lei non ha dormito tutta la notte immaginiamo uno dei malviventi ripreso dalle telecamere le armi in un armadio aperto con il piede di porco questo la sintesi della notizia vediamo come la riporta il Corriere Adriatico che pubblica anche le foto che sono state scattate mentre i ladri erano in azione svaliggiate quattro abitazioni colpita la casa di Carloni rubati Rolex ori e armi raid tra Fano e Marotta tre ladri in fuga con due pistole semi-automatiche e questo ovviamente ha determinato anche le preoccupazioni degli inquirenti perché insomma avere rubato delle pistole non è una cosa da poco tutti i tre ladri hanno un aspetto forte e robusto uno alla barba senza baffi da casa Carloni sono stati portati via due reloggi Rolex alcuni gioielli della signora Monili d'oro della bambina circa 500 euro e due pistole una Walter PPK e una Glock custodite nell'armadio delle armi insomma veramente un fatto sensazionale un fatto eclatante Paolo siamo arrivati alla conclusione queste sono un po' le notizie che ci sono oggi io ti ringrazio per la tua presenza qui alla Rassegna Stampa e auguriamo insieme a tutti i nostri ascoltatori una buona giornata un buon fine settimana un buon fine settimana anche noi ci risentiamo domani alle ore 7 puntuali per la Rassegna Stampa delle notizie del sabato grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci a risentirci